22 minuti di lavoro mirato su gambe e glutei, ottimo da svolgere come unico allenamento o in combinazione ad altri workout per massimizzare il lavoro su gambe e glutei. Iniziamo! Ok, iniziamo! Subito step touch, scaldiamo tutto il corpo prima di iniziare questo super allenamento, è fondamentale il riscaldamento, mi raccomando non saltatelo mai! Vamos! Esercizio successivo, mezzo squat, 3, 2, 1, cambio, mezzo squat, è uno squat leggermente accennato, ci serve appunto per scaldare gambe e glutei, andiamo ad attivare tutta la parte bassa, quadricipio femorale, gluteo, respiro, 3, 2, 1, Slanci glutei solo da una parte, gamba frontale leggermente piegata, slancio dietro, mani sui fianchi, mantengo l'equilibrio e slancio, 10 secondi, iniziamo ad attivare sempre di più i glutei, respiro e poi cambiamo gamba, 3, 2, 1, cambio, slancio gamba dall'altra parte, Tocco la punta e salgo, testa dritta, gamba frontale leggermente piegata, respirazione attiva, naso, bocca, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, calciata ai glutei, vai, taloni ai glutei, gambe leggermente divaricate, alterniamo lato destro e lato sinistro, 10 secondi, respiro, alterniamo sempre movimento braccia e gambe, 3, 2, 1, recupero attivo, andiamo a prendere il nostro tappettino, lo posizioniamo, partiamo con apertura laterale della gamba, 5, 4, 3, 2, 1, gomito a terra e apro lateralmente la gamba, la gamba è a 90, il piede a martello, attiviamo il gluteo, respiro e poi cambiamo lato, dall'altra parte, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, dall'altra parte, appoggio il gomito opposto alla gamba a terra, allargo e scendo, il movimento è controllato, attiviamo il gluteo, respiro, piede a martello, 3, 2, 1, recupero attivo, respiriamo, prendiamo fiato, spinta ad una gamba, spostiamo il tappettino se necessario, 3, 2, 1, un mezzo squat con la spinta su una gamba, solo da una parte, piccolo squat e spinta da una parte, attiviamo tutta la parte bassa, 10 secondi e poi cambiamo, spinta ad una gamba, dall'altra parte, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, dall'altra parte, mezzo squat e spinta, mezzo squat e spinta, focalizzati sulla respirazione, inizia già a respirare naso e bocca, 10 secondi, vai, mezzo squat e apro, mezzo squat e apro, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendiamo il nostro tappetino o lo teniamo vicino, partiamo con ponte da terra in isometria, 3, 2, 1, vai, ponte da terra, movimento di isometria, rimango sospeso, indurisco il gluteo, piedi in sicurezza, testa dritta e respiro, mantengo la posizione, 3, 2, 1, cambio in ponte da terra, movimento di salita e discesa, salgo e scendo, tocco il gluteo a terra e risalgo, attiviamo ancora i glutei, sempre respirazione, esercizio dopo esercizio, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiriamo, prendiamo fiato, ripartiamo con slancio gluteo solo su una gamba 90, posizione di quadrupedia, 3, 2, 1, vai, slancio, gamba a 90 gradi, piedi a martello, il movimento è controllato, mantengo la posizione di quadrupedia, braccia in linea con le spalle, testa dritta e respiro, salgo e scendo lentamente, 3, 2, 1, cambio, dall'altra parte stesso movimento, gamba sempre a 90 gradi, piedi a martello, salgo e scendo, respiro, attiviamo il gluteo, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, riprendo fiato, ripartiamo con apertura laterale su una gamba, attiviamo sempre il gluteo, in posizione di quadrupedia, 3, 2, 1, vai, gomito a terra e apro lateralmente, il gomito a terra è opposto alla gamba che lavora, mi raccomando la posizione è corretta e attiviamo il gluteo con l'apertura laterale, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, dall'altra parte, allargo lateralmente, il movimento è controllato, tecnico, respirazione, attiviamo il gluteo, non velocizzare troppo il movimento, senti il lavoro sul gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiriamo, prendiamo fiato, ci prepariamo per slanci glutei su una gamba, 90 gradi, 3, 2, 1, slancio, slancio controllato, gamba 90 gradi, piedi a martello, attiviamo il gluteo, salgo e scendo, controllando il movimento, respirando, ancora 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 20 secondi dall'altra parte, attiviamo ancora il gluteo, vai, salgo, movimento controllato, 10 secondi, fino alla fine senza fermarsi, controllo il movimento, 3, 2, 1, recupero attivo, respiriamo, ora andiamo ad inserire le cavigliere, allacciamo le nostre cavigliere in modo da mantenere fermo il movimento sulla caviglia, in modo che non balino mentre andiamo a fare gli esercizi, ok? 5 secondi e partiamo con slanci glutei su una gamba, slanci glutei su una gamba, gamba 90, l'esercizio con la cavigliera aumenta la sua resistenza sul gluteo, respiro, posizione di quadrupedia, braccia in linea con le spalle, testa dritta, attivo la respirazione, 3, 2, 1, recupero attivo, usiamo la stessa gamba, sempre slanci glutei su una gamba, 2, 1, vai, sempre stessa gamba, andiamo ad attivare la stessa gamba, lo stesso gluteo, salgo e scendo, mantengo sempre il controllo del movimento sia in salita che in discesa, respirazione, 3, 2, 1, respiro, slancio gluteo, movimento laterale della gamba, tra 3, 2, 1, stessa gamba, il movimento è laterale, a gamba tesa, gamba tesa, salgo movimento laterale e ritorno, lavoriamo ancora sempre sulla stessa gamba, attiviamo, movimento laterale, gamba tesa, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ripartiamo con apertura laterale della gamba, 3, 2, 1, ancora la stessa gamba, solo apertura laterale, sempre gamba 90, piede a martello, appoggio il gomito opposto alla gamba che lavora a terra, attiviamo il gluteo al massimo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ripetiamo tutto con l'altra gamba, andiamo ad attivare al massimo il gluteo sull'altra gamba, 3, 2, 1 e iniziamo con gli slanci, slanci glutei a 90 gradi, salgo, e scendo piano piano, il movimento è controllato, tecnico, respiro, il piede a martello, sempre respirazione, addome contratto, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, ora abbiamo sempre sulla stessa gamba, slanci glutei a 90, 3, 2, 1, vai e riparto, sempre attivazione della stessa gamba, respiro, posizione di quadrupedia, 10 secondi, salgo e scendo, movimento controllato, ma continuo, non mi fermo, 5, 4, 3, 2, 1, scarico, ora abbiamo slanci gluteo, movimento laterale della gamba, usiamo la stessa gamba, 2, 1, gamba tesa e vado col movimento laterale, movimento laterale e ritorno, movimento laterale e ritorno, stessa gamba, movimento laterale a gamba tesa, respirazione, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ora abbiamo l'apertura laterale sulla stessa gamba, 3, 2, 1, solo apertura laterale, sempre gamba a 90 gradi, piede a martello, apertura e ritorno, apertura e ritorno, movimento controllato ancora, 5, 4, 3, 2, 1, ok recupero attivo, ora abbiamo interno coscia da terra, solo su una gamba, 3, 2, 1, vai, salgo e scendo, la gamba frontale, il piede è ben appoggiato a terra, in sicurezza, salgo e scendo, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, breve recupero attivo, interno coscia da terra, dall'altra parte, andiamo a lavorare sull'altra gamba, 3, 2, 1, vai, sali e scendi, la gamba frontale, il piede è ben appoggiato a terra, salgo e scendo, piede a martello, attiviamo l'interno coscia, respiro, cerco di non toccare terra, rimango col piede sollevato, 4, 3, 2, 1, breve recupero attivo, ripartiamo con slanci glutei solo su una gamba, ritorniamo al gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, vai, sali e scendi, il movimento è controllato, sempre respirazione, il piede a martello, attiviamo il gluteo, salgo e piano, controllo il movimento, sento lavorare il muscolo, ancora 10 secondi, sali e scendi, controlla, sali e scendi, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, sulla stessa gamba, slancio glutei, gamba 90, 3, 2, 1, vai, riparto, sempre sulla stessa gamba, lavoro di focus sul gluteo, gamba 90 gradi, piede a martello, salgo e scendo piano piano, braccia in linea con le spalle, posizione di quadrupedia, respiro, non inarcare la schiena, 3, 2, 1, 10 secondi di recupero, sempre sulla stessa gamba, ancora slancio glutei a 90 gradi, vai e riparti, salgo e scendo piano piano, movimento controllato, mantengo la respirazione attiva nonostante il movimento, inspiro col naso e ispiro con la bocca, ancora 10 secondi, fino alla fine senza fermarsi, 5, 4, 3, 2, 1, stessa gamba, solo apertura laterale, sempre gamba a 90 gradi, respiro, appoggio il gomito opposto alla gamba che lavora a terra, apro e chiudo, piano piano, apro e chiudo, attiviamo il gluteo, respiro, ancora 10 secondi resisto, anche se mi brucia, non mi fermo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ora ripetiamo, tutta la sequenza sull'altra gamba, 3, 2, 1, e partiamo, slanci su una gamba, gamba 90, piede a martello, braccia tese, testa dritta e respiro, salgo e scendo, controllo il movimento, attiviamo il gluteo, ancora, sempre respirazione, ancora 10 secondi, respira, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, stessa gamba, slancio, gamba 90, 4, 3, 2, 1, ripartiamo, sempre slancio, gamba 90, piede sempre a martello, continuiamo la sequenza solo su questa gamba, slancio a 90 gradi, piede a martello, respiro, il movimento è controllato, 5, 4, 3, 2, 1, scarico, sempre sulla stessa gamba, slancio glutei, 5, 4, 3, 2, 1, salgo e scendo, respiro, respiro, controllo il movimento, massima attivazione del gluteo, respirazione, controllo, tra 10 secondi cambiamo in apertura laterale, sempre su questa gamba, 3, 2, 1, solo apertura laterale, il gomito opposto alla gamba va appoggiato sul tappetino, lavoro lateralmente sulla gamba 90, mantengo il piede a martello, respiro ed attivo il gluteo, ancora, allargo e ritorno, allargo e ritorno, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ponte ad una gamba in appoggio sul tallone, 3, 2, 1, caviglia appoggiata sul ginocchio opposto, sali e scendi ma non scendere completamente, rimani in appoggio solo sul tallone, testa dritta, ancora, mani e braccia sui lati, respirazione, sali e scendi ma non scendere completamente, movimento controllato, attivazione del gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, dall'altra parte, salgo e scendo ma non completamente, cerco di non toccare il gluteo a terra, testa dritta, respirazione attiva, resisto fino alla fine, vai, ancora, ancora 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, riprendiamo fiato, togliamo le nostre cavigliere, ripartiamo con un po' di stretching, 5, 4, 3, 2, 1, una gamba avanti, il ginocchio posteriore appoggiate a terra, rimani in posizione con le mani appoggiate ai lati del piede, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio, ora l'altra gamba avanti, il ginocchio posteriore appoggiate a terra, rimani in posizione con le mani appoggiate ai lati del piede, respirazione e manteniamo lo stretching, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, stretching gluteo schiena a terra, 3, 2, 1, appoggio la caviglia sul ginocchio opposto, gamba a 90 gradi, mantengo la posizione, schiena ben aderente a terra e respiro, 3, 2, 1, cambio, appoggio la caviglia sul ginocchio opposto, affero la parte posteriore della coscia e rimango in posizione, respiro e mi rilasso, 3, 2, 1, recupero attivo, torsione del tronco da posizione seduta, 4, 3, 2, 1, incrocia una gamba sull'altra, appoggia il gomito sul ginocchio e ruota il tronco indietro, guarda dietro di te senza forzare la posizione, rimani ferme e respira, 5, 4, 3, 2, 1, cambia gamba, incrocia dall'altra parte, appoggia il gomito sul ginocchio, ruota il tronco indietro, guardo dietro e rimango in posizione, 3, 2, 1, ok, il tuo allenamento è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos! WWW! WWW! WWW!